pallone alla profondità il pallone spiovente la mezza rovesciata tentata dal giocatore dell'atletico ippoliti pronto a colpire con il destro a giro stava per trovare una diviazione vincente pericoloso qui il frosinone oltre il quarto d'ora nel primo tempo situazione ancora di 0 a 0 con adesso il pallone per il numero 7 berretta che ha tentato lui la conclusione alcini però a far prolungare il proprio attaccante berretta riesce in qualche modo a servire sulla destra la legge molto molto bene dell'io centralmente per il sinistro potentissimo di renelli pronti giro del fosinone direttamente alla conclusione diretta non era facile l'angolo per l'atletico euro con il destro in mezzo respinto con la testa non è finito però il tiro basso direttamente sul portiere controllo di berretta dall'altra parte invece a tu per tu con il portiere la lunga rincorsa fa impazzire la panchina e il risultato si sblocca alla quindicesimo del secondo tempo 1 a 0 per l'atletico euro grazie a questo bellissimo contropiede finisce qui la partita un risultato che l'atletico euro si porta a casa difeso con le unghie e con i denti 1 a 0 sul fosinone calcio a 8